Sassi Allora, guarda, guarda, guarda! ecco ecco un pelino più lungo ecco 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 bora ecco 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 quando hai sul davanti fermati e poi gliene dai un altro non riesci a farla continua così ti fermi e poi gli dai un'altra scaricata se no non va là così devi pensare a quello lì non a questo perché se pensi a questo ti fermi non è facile non ci fermi non ci fermi Grazie a tutti.